... Dai Davide, forza! Quanti minuti sono che non vedo niente? Quanti sci-do hanno? Ah, sci-do... forse gli ha dato sci-do a Davide. Sì, ma gli hanno tolto il vazzario almeno. Adesso c'è di vantaggio per Davide, cioè l'altro ha uscito più. Tre sci-do l'altro. Tre sci-do l'altro. Dai Davide, forza! Dai Davide, forza! No, no! Sì! Bravissimo!